Carluccia e Beatrice, si Carluccia, Carlotta, Carlotta, Ameni e non Amina, Ameni, anche voi non potete pronunciare il nome, ok allora come era il tour con noi? molto bello, vi piaciuto il Cairo? bellissimo, tutta la prima migliore, bellissimo, ho visto la tomba di Tutankhamon, ho visto la tomba, il sarcofago, la maschera di Tutankhamon, il museo Egizio, e come erano le tour alle piramidi? bellissimo, non sono male le gambe, quali piramidi vi è piaciuto di più? Cheope, ok Giovanna, quale piramidi ti è piaciuto di più? Cheope e poi la sfinge, meravigliosa, ok, vi è piaciuto il ristorante? molte, si è buono, si mangia bene? si anche se mangiamo poco, no? Allora il ristorante offre tanto, ma lei che mangia poco, ok, andiamo adesso al mercato, va bene? Vamos, al bazar, al bazar, Giorgia, com'era il tour con noi? Bellissimo, bravissima sei stata veramente brava, grazie, professionale, competente, gentile, grazie tanto, bravissima, è vero, bravissima, grazie, 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 Federico, cosa vuoi dire? Grazie, grazie mille per questa vita, bravissima, grazie caro mio, bravissima, tutto bene, tutto bene, tutto bene, dai Amina, andiamo, Ameni, non Amina, Ameni, 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 vabbè io sono a Cagnuccia, anche io ho Gio Cagnuccia, la giusta.